Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul mio canale, io sono Cristina e finalmente riesco a girarvi il video reportage del SANA 2020. Come vi dicevo faccio una piccola postilla, ma questo video avrei voluto registrarlo molto prima, ma non solo mi sono presa una piccola pausa, una piccola vacanza, l'unica di quest'anno, subito dopo il SANA sono rimasta a Bologna e ai dintorni per qualche giorno, ma poi quando sono tornata a casa mi sono ritrovata con la febbre e la sinusite, quindi sono andata avanti a antibiotici, aerosol eccetera, e oggi è il primo giorno in cui mi vedo discretamente meglio, quindi posso girare questo video. Ma prima di iniziare questo discorso del SANA vorrei invitarvi a iscrivervi al mio canale, mettere un like se vi piacerà questo video, sappiate che è un video piuttosto lungo, non ho intenzione di dividerlo perché tanto insomma per una volta ogni tanto potete anche stare scialli e guardarvi una bella mezz'ora di video e ovviamente qui sotto vi lascio Instagram, io ho anche tutti gli altri social, ho il blog, insomma andate a dare un'occhiata un po' a tutto. Prima di iniziare a parlare di quello che ho comprato, di quello che ho ricevuto e di quello che ho visto al SANA, io vorrei ringraziare gli organizzatori e i partecipanti per esserci stati, nonostante siamo in un'emergenza abbastanza importante, un SANA così tranquillo, io devo dire che in nessuna occasione mi sono sentita a disagio o in pericolo Covid, assolutamente, all'entrata come sapete non si potevano fare i biglietti, quindi non c'erano le file alle biglietterie, si poteva entrare solo con il biglietto fatto online, si passava sotto uno scanner che misurava la temperatura, quindi perfetto, si passava pian pianino per entrare, c'era un controllo manuale e subito dopo c'erano dei dispenser di igienizzante che erano veramente dappertutto, in tutto il SANA, all'entrata e all'uscita dei padiglioni erano disseminati questi erogatori di igienizzante che poi comunque ogni stand aveva il suo, magari della sua marca, ma comunque tutti erano forniti di questi gel, tutti erano con la mascherina, non c'erano assembramenti, gli stand erano molto separati uno dall'altro, quindi anche volendo, se c'era anche più di due o tre persone davanti a uno stand, riuscivano a stare bene dilatati e quindi insomma non c'era assembramento e in più devo dire c'erano degli addetti che giravano per controllare insomma che non succeda nulla di spiacevole. Mi sono sentita veramente quasi coccolata se vogliamo dire e è stato bello poter partecipare comunque e senza ansia, almeno io parlo per quel che mi riguarda. Certamente c'erano poche persone, pochi espositori, soltanto tre padiglioni erano aperti e non c'era il padiglione della vendita, quindi la cosa buona è stata anche che agli stand si poteva vendere e quindi ho acquistato come ogni anno. Quindi partiamo subito perché altrimenti poi mi dilungo troppo e poi vi stufate e non guardate più il video. Allora partiamo subito con quello che ho visto. La prima cosa di cui vi parlo è lo stand dell'azienda di Leaf Green, mi è piaciuto tantissimo, è sempre presente però per me era la prima volta che mi fermavo a chiacchierare un po' con i responsabili perché tutti gli anni c'era la ressa e ho capito poi anche il perché. Anche quest'anno devo dire sono passata due o tre volte prima di riuscire finalmente a parlare con il responsabile e a farmi spiegare le novità e quello che avevano portato Al sana. Al sana hanno portato diciamo tre novità che riguardano tutte e tre la cura dei capelli, ci sono due shampoo, due maschere e un balsamo leave-in. Lo shampoo e le maschere sono accoppiato ovviamente, sono o per capelli tinti, quindi una protezione per la tinta o per capelli stressati, sfibrati o secchi. E poi c'è il balsamo leave-in che io ho perché ne sono stata omaggiata visto che poi ho comprato anche un altro prodotto. Il balsamo leave-in è districante protettivo ma quello che mi è piaciuto è la dicitura effetto anticrespo. Voi sapete che con questi capelli corti spesso mi capita di asciugarli in velocità e diventano molto crespi, quindi non vedevo l'ora di provare questo leave-in che poi mi sono accorta, al momento no, infatti mi sono accorta dopo, è in un pack trasparente quindi si vede all'interno il prodotto. Il prodotto viene erogato non con uno spray ma con proprio un applicatore così, è liquido, si passa sulle mani e si mette sui capelli. Non l'ho ancora provato ma lo proverò subitissimo. All'interno troviamo petali di gelsomino e i petali del gelsomino tra l'altro sono come base per quel che riguarda questa linea perché anche lo shampoo e entrambi gli shampoo, volevo dire, hanno all'interno i petali di gelsomino e il gelsomino e addirittura all'interno della boccettina hanno proprio i bocciolini del gelsomino, i fiorellini del gelsomino. Io ringrazio tra l'altro il responsabile, è stato molto carino, io sono rimasta lì mentre lui aveva anche altre cose da fare, parlava con delle clienti eccetera e mi ha divertito sentire la storia raccontata mille volte però sempre con passione e con orgoglio da parte di questo ragazzo perché insomma è una persona molto giovane in confronto a me, insomma posso dire che è un ragazzo. Appunto questa è la novità per io, ho acquistato anche l'olio per il corpo, questo fa parte della loro linea classica, hanno una linea completa per quel che riguarda il corpo, quindi hanno bagno stiuma, oli, scrub, anzi per quanto riguarda gli scrub vi farò passare adesso un clean clip che ho girato, sono degli scrub profumatissimi, all'interno hanno una miscela di oli con il sale e sono veramente a vederli, almeno poi sono veramente buoni ma la loro consistenza è molto interessante perché avendo questa miscela di oli rendono anche la pelle molto idratata. Poi appunto dicevo dell'olio, io ho preso questo che è un po' particolare come profumo perché c'erano dei profumi un po' diciamo classici come la lavanda, l'arancia, la menta, io ho voluto provare la melissa e achillea, forse non so se si riesce a vedere in controluce ma all'interno ci sono dei pezzettini, forse così lo riuscite a vedere ecco, ci sono proprio i pezzettini della pianta, in questo caso della melissa. Per quanto riguarda quest'olio unisce il potere rilassante della melissa, defatigante, rilassante, a quello invece anti age perché all'interno ha comunque delle proprietà riparatrici e ristrutturatrici dell'epidermide. Calma e relax, lenitivo, non vedo l'ora di provarlo, ha un profumo molto particolare, infatti l'ho scelto forse anche per il profumo perché non è il classico profumo ma ha un odore un po' particolare che cambia molto dal primo momento in cui viene applicato a poi quando viene assorbito dalla pelle ma sapete che a me le cose piacciono un po' particolari. Ho rivisto con molto piacere la responsabile di Dada Mio, eccola qui l'azienda, li avevo conosciuti al Cosmopharma dell'altro anno, mi erano stati dati alcuni prodottini da provare e ho anche già fatto una recensione sul blog, potete trovarlo e ho fatto proprio la recensione di questo olio doccia shampoo detergente delicato appunto che mi era stato dato così mini size però siccome è stato riformulato mi è stato dato ancora una volta per riprovarlo se mi piace e magari riaggiustare la recensione che ho già fatto e in più mi hanno mi hanno dato in omaggio anche la crema mani protettiva per provarla ed eventualmente recensirla, conoscete penso Dada Mio se avete letto già la recensione appunto sul mio blog, è un'azienda che fa prodotti molto delicati per bambini ma anche per gli adulti per pelli sensibili, per pelli delicate, non contengono assolutamente nessun tipo di prodotto che possa fare allergia o intolleranza, sono assolutamente prodotti addirittura senza profumo proprio per evitare gli allergeni del profumo, sono prodotti estremamente delicati, a me piacciono tantissimo, mi erano già piaciuti a suo tempo quando li ho provati, ora ho altre cosine da provare e anche di Dada Mio presto ne saprete di più. Ho rivisto anche con molto piacere Bio Snail, eccoli qua, ne ho parlato ho parlato un po' con il responsabile che era allo stand, mi hanno regalato anche due campioncini sebbene io conosca molto bene questa azienda perché ho già provato il loro siero e il loro contorno occhi, l'avevo provato un bel po' di tempo fa, quindi non ero ancora così attiva sui social eccetera, quindi probabilmente non vi ricorderete ma comunque io ho un buon ricordo, quest'anno al sana avevano portato l'integratore alimentare liquido infiale, sempre a base di bava di lumaca, di collagene marino, vitamine B e C, e praticamente si presenta così un cofanetto con 10 fiale, purtroppo non era visibile al sana perché per un contrattempo non è arrivato appunto in fiera e infatti la persona che mi ha accolta così era abbastanza disperata per questo perché appunto essendo una novità non potevano mostrarla ma vabbè, io l'ho poi vista sul sito, queste fiale si assumono, questo integratore si assume 10 fiale poi per 10 giorni, poi una pausa di 20 giorni e altri 10 fiale che è un ciclo completo e si cominciano a vedere già i primi effetti perché appunto sia il collagene che la bava di lumaca comunque agiscono sull'epidermide come anti-age, come ristrutturante, quindi insomma si comincia a vedere anche presto i risultati, poi ovviamente dopo aver fatto un ciclo da 10 più 10 potete anche non prenderle più, insomma comunque è una cosa interessante perché appunto la bava di lumaca non tutti lo sanno ma è molto utile anche a prenderla per bocca, io ho fatto un articolo, magari ve lo lascio sempre qui sopra, che parla esclusivamente della bava di lumaca. Un nuovo brand invece che non conoscevo è Biomura, un brand napoletano che ha questi prodotti, sono solo 6 per ora ma stanno sperimentando altre referenze, Biomura è un brand fondato da un farmacista che ha messo a frutto le sue conoscenze, le sue capacità per creare questa questa linea. Sono 6 prodotti come vi dicevo dedicati a tre tipi di pelli, le pelli miste e grasse, miste e secche e per pelli mature. Ci sono ovviamente le creme per il viso, ci sono dei contornocchi, dei tonici e appunto dedicati a vari tipi di pelle, hanno all'interno degli ingredienti specifici vegetali che vanno proprio ad agire su questo tipo di pelli. Sono vi dicevo certificati IAB e niente io per adesso ho un campioncino di contornocchi Lift Anti-Age scusate con zafferano e acido ialuronico, lo proverò poi vi farò sapere come mi sono trovata. In realtà avrei voluto comprare qualcosina poi tra una cosa e l'altra mi è andato fuori di testa perché sono passata in tanti stand e avrei voluto comprare tante cose in più ma ovviamente non me lo potevo permettere ma comunque è un brand da tenere d'occhio. Sono passata poi in uno stand che ho avuto veramente molto piacere di vedere come si è ingrandito quindi si ingrandita sicuramente anche l'azienda e sto parlando di Econano Green, una azienda che io ho imparato a conoscere al sana di parecchi anni fa, è cresciuta, è diventata veramente grande, ha moltissime referenze e io li ho conosciuti quando al sana erano presenti soltanto con il loro scrub, con un detergente per il corpo e dei detersivi perché in realtà il loro punto di forza, il loro cavallo di battaglia sono i detersivi di tutti i generi dalla lavastoviglia alla lavatrice ai pavimenti, tutto veramente, hanno tantissimi tipi di detersivi in questo caso ho visto anche che hanno sviluppato una nuova linea cosmetica che però non sono riuscita a sgraffignare, volevo sapere qualcosa di più ma è appena uscita quindi sicuramente avrò tempo per andare sul sito, vedere le referenze e al limite scegliere e comprare qualche cosina da provare, nel frattempo però ho parlato con il responsabile e gli ho raccontato insomma che io li ho conosciuti, li ho visti quando erano ancora piccolini e ha insistito tanto affinché io acquistassi appunto questo scrub e in effetti questo è lo scrub che io ogni volta che andavo al sana ci mettevo gli occhi sopra e dicevo ok lo devo comprare però poi tra una cosa e l'altra non lo compravo mai e anche perché è un boccione cioè qui abbiamo mezzo chilo di scrub, il bello di questo scrub è che è uno scrub lavante perché all'interno invece di avere oli o comunque prodotti viscosi per poter poi fare lo scrub qui dentro c'è direttamente il loro bagno doccia, il loro bagno schiuma quindi si può usare proprio come uno scrub lavante lava, scrabba anche ogni giorno perché è molto delicato però ha un profumo molto aromatico perché all'interno contiene comunque estratti di aloe verga, rosmarino, salvia, lavanda, calendula, tiglio, timo, valeriana e amamelide. L'effetto scrubbante è il sal gemma quindi già il sale contiene degli oligoelementi che vanno comunque ad agire sulla pelle. Questo lo metto direttamente in doccia e niente non vedo l'ora di provarlo, lo metterò lì magari lo userà anche mio marito anche perché il responsabile appunto con cui ho parlato mi ha detto ah io lo uso ogni giorno quindi in effetti il profumo non è sficatamente femminile si può tranquillamente utilizzare anche se si è del sesso forte. Sono passata poi dall'isola di Paolo eccola qui in realtà questa azienda si chiamava Polin l'altro anno io sono passata ve ne ho anche parlato sui miei social e mi ha fatto veramente molto piacere poter parlare direttamente con il titolare responsabile insomma una persona veramente squisita che mi ha raccontato un po' di quello che fanno nella loro azienda perché è un'azienda che non fa solo cosmetici comunque in ogni caso mi sono stati dati alcuni campioncini da provare però appunto ripeto è un'azienda più che altro un'azienda agricola una tenuta che produce materie prime assolutamente di ottima qualità con un'agricoltura biologica ovviamente che utilizza sia per i suoi cosmetici ma anche per venderli a chi invece fa altre cose altri cosmetici altre ne fa altri usi. Comunque ho una bellissima brochure da guardare a parte ci sono delle bellissime immagini anche della zona di dove sono loro che sono di predappio e appunto ci sono delle immagini molto belle tra l'altro se non sbaglio il cartoncino la carta è carta riciclata perché si sente sotto le mani quindi anche assolutamente ecologico da questo punto di vista ci sono le spiegazioni dei loro prodotti io veramente sono molto contenta anche perché vederli proprio così sul sullo stand esposti sono veramente molto belli anche da vedere e mi hanno anche regalato un sacchettino con all'interno la lavanda buonissima un'altra azienda con cui mi sono relazionata molto bene ho trovato delle persone molto gentili che mi hanno spiegato tutta la loro il loro progetto la loro mission la loro azienda e questa è mai vitali eccola qui ho la loro brochure è un'azienda che è principalmente fa integratori alimentari ovviamente naturali e come ingrediente principale hanno l'estratto della foglia d'olivo non l'olio d'oliva l'estratto di foglia d'olivo in ogni caso tutto quello che viene dall'olivo sappiamo benissimo che è assolutamente benefico in questo caso i loro integratori mirano al benessere fisico a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo il peso sono rinforzanti per il cuore insomma si dedicano più a quello che è l'aspetto del nostro corpo per quel che riguarda la salute in ogni caso hanno fatto poi anche una piccola linea di cosmetici all'interno c'è sempre l'estratto di foglia d'olivo e si prendono cura della nostra pelle in questo caso ho avuto tantissimo piacere di avere in omaggio alcuni prodotti da loro e perché voglio provarli voglio testarli e ne voglio parlare quindi per ora non mi dilungo molto sull'azienda perché ve ne parlerò su appunto la recensione che farò al più presto appena avrò cominciato a provare questi prodotti ma ve li mostro il primo è molto interessante ed è la crema per il corpo eccola qui è idratante e è anti age perché sappiamo benissimo appunto che una delle peculiarità per quel che riguarda gli estratti dell'olivo e della foglia d'olivo è essere antiossidante e all'interno ha appunto l'estratto di foglia d'olivo e burro di carité non l'ho ancora provato devo provarlo anzi non l'ho neanche annusato ah è proprio con no è sigillato volevo sentire il profumo ma niente vabbè poi un altro prodotto è questo ed è un semplicissimo tra virgolette gel igienizzante che in questo momento ci sta il discorso è che questo è molto particolare perché all'interno contiene tutta una serie di ingredienti che vanno a mantenere la pelle delle mani morbide e idratata perché sapete che dopo aver usato un gel igienizzante di solito la pelle delle mani soffre in questo caso no anche perché l'ho provato proprio lì allo stand e mi è sembrato veramente un ottimo un ottimo prodotto cosa vi posso dire cosa c'è dentro allora poi a parte gli ingredienti igienizzanti come l'alcol eccetera c'è la glicerina poi c'è comunque l'estratto di foglie d'olivo il pantenolo l'olio d'oliva e comunque insomma è assolutamente molto buono perché vi lascia la pelle delle mani morbida e idratata e l'ultimo prodotto e questo è quello che ho usato è l'unico prodotto che ho usato del sana è il kiss balm il lip balm si può ben capire ed è appunto anche questo con estratti di foglie d'olivo eccolo qua è leggermente verdino come si può notare è molto idratante rimane tanto sulle labbra fa proprio un bel stratino è come avere un rossetto non è colorato assolutamente però si mantiene anche se bevete o se mangiate vi lascia la pelle delle labbra veramente molto morbide l'ho utilizzato perché come una scema sono andata via di casa senza portarmi via nulla e stando tutto il giorno con la mascherina veramente anche il sana è stato un supplizio e questo mi ha aiutato tantissimo mi piace tra l'altro perché ha un profumo fantastico non so che aroma hanno messo all'interno massa di caramello di vaniglia una roba buonissima e appunto adesso che ve l'ho mostrato continuerò ad usarlo perché appunto volevo mostrarvelo non troppo consumato ma questo è veramente un ottimo lip balm io non vado matta sapete per i balsami labbra anche se ne ho tantissimi a casa però adesso da quando ho cominciato a usare la mascherina è chiaro che bisogna utilizzare questo tipo di prodotti quindi presto saprete di più di my vitaly arriviamo ora ad alia eccola qua tutti l'aspettavano al sana era una delle aziende più attese perché si sapeva che doveva partecipare e alia ha portato la sua novità eccola io l'ho acquistata ed è il bagno doccia vellutante e addolcente all'interno abbiamo gel di fico d'india e olio essenziale di arancio profumo è molto buono perché in questo caso è stappato e l'ho anche sentito è molto molto buono delicato elegante anche discreto direi però si sente ha un buon profumo e mi piace tantissimo poi tra l'altro è anche un bel boccettone a 300 ml quindi per come detergenti per il corpo direi che sono a posto perché ne ho parecchi quindi devo provare anche questo ma solo il pensiero mi piace già il profumo la consistenza insomma alia si sa fa questi prodotti molto non solo efficaci ma anche molto charman molto belli sarà per il loro packaging carinissimo ma insomma sono comunque sempre buoni prodotti in più mi hanno anche riempita di campioncini non vedo l'ora di cominciare anche quelli e niente quindi per quel che riguarda alia appena avrò cominciato a provare questo bagno schiuma vi darò le mie prime impressioni poi magari ne farò anche una recensione velocemente gli ultimi stand che ho visitato non li ho visitati tutti cioè no in realtà li ho visitati praticamente tutti anche più di una volta ma non tutti erano interessanti almeno per quel che mi riguarda personalmente questo mi è piaciuto tantissimo ed è sol di ibiza eccola qua è un brand nuovissimo da pochissimo tempo commercializzato in italia pur essendo comunque un brand italiano infatti appunto era ibiza poi adesso stanno stanno arrivando in italia e niente hanno soltanto per ora due solari hanno una solare in stick un spf 50 e un solare in crema un spf 30 io ho parlato con arianna credo si chiamasse perché mi ha dato anche il suo bigliettino una persona gentilissima mi ha raccontato tutto della loro azienda di come si sono spostati da una parte all'altra adesso non ricordo esattamente ma prima di ibiza erano anche in un altro posto e niente secondo me è un'azienda da assolutamente tenere d'occhio un po' perché comunque mi sembravano prodotti molto buoni anche se non ho potuto testarli perché giustamente lo stick lei lo ha testato sulla sua pelle perché non era possibile passarsi i prodotti uno con l'altro però mi sembravano veramente degli ottimi prodotti tra l'altro ciò che mi ha fatto anche molto piacere che entrambe le confezioni sia lo stick che la scatoletta di latta appunto che teneva la crema sono biodegradabili perché appunto la scatoletta è in alluminio che si può comunque mettere nella riciclata e lo stick è in cartone quindi assolutamente anche da quel punto di vista non solo all'interno ci sono solari naturali filtri solari naturali ma anche i pack sono creati in modo da non inquinare lei mi raccontava appunto che molto spesso andando nelle spiagge della sua zona di Ibiza ma anche di altre zone molto molto turistiche la cosa peggiore è proprio sentire sia l'odore ma anche vedere proprio quest'olio che galleggia sulla superficie dell'acqua e sentire questo continuo profumo di creme solari gente che proprio non ha rispetto per la natura e continua a usarne in maniera spropositata ed è veramente sgradevole soprattutto per chi abita da quelle parti e che è abituato a vedere un mare bellissimo quindi insomma posso capire comunque un'azienda da tenere d'occhio un'altra azienda che conosco già perché ho visto parecchie volte sempre il Sana è la Dispensa eccola qui in questo caso sono riuscita a vedere i loro nuovi prodotti della linea Florinda eccoli allora praticamente sono degli shampoo solidi anche in questo caso si sono si sono buttati sui cosmetici solidi abbiamo gli shampoo e i balsamo si possono comprare diciamo semplici cioè hanno questa grandezza sono delle barrette tipo di cioccolata una cosa del genere hanno veramente la grandezza di una barretta di cioccolata non scherzo infatti si può anche notare da questa immagine che sembra veramente una cioccolata bianca oppure ci sono i pacchi da tre sono tre mini mini sciampetti così piccolini vediamo se le hanno qua se no vi metterò una foto e praticamente sono soltanto di tre tipologie diverse quindi avete la scelta su cosa usare giorno per giorno mi ha fatto piacere vedere appunto che si sono buttati anche loro sui cosmetici solidi una cosina veloce per dirvi che sono passata nello stand del cibo c'erano tantissime cose ho fatto una corsa veloce perché comunque dovevo ancora passare nell'altro stand eccetera però mi ha colpito moltissimo e scusate ma ho dovuto fermarmi uno stand dove vi vendevano e insomma facevano esponevano dei prodotti a base di olivello spinoso ora io ho detto al responsabile che era lì allo stand che io l'olivello spinoso l'ho sempre usato come ingrediente cosmetico sulla pelle anche come crema ma non sapevo che si mangiasse o comunque fosse possibile usarlo anche a livello alimentare e invece si possono fare gli sciroppi le marmellate guardate si possono mettere nelle tisane insomma l'olivello spinoso è possibile anche assumerlo per bocca e io non lo sapevo purtroppo non ho potuto assaggiare nulla perché era in un piccolissimo stand diviso con altre realtà e non facevano assaggini o cose varie questo in particolare si chiama www.olispin.it e voglio andare a vedere se vendono questi prodotti perché sono troppo curiosa e voglio assaggiarli l'ultimo prodotto di cui vi parlo non è niente di cosmetico non è niente di alimentare ma sono questi orecchini che ho acquistato nello stand di Capimdoro eccoli qua e sono in completo con questo anello e sono a forma di chiave di violino può essere scusate ma è di musica non me ne intendo e sono bellissimi io ho fatto una marea di foto a questo stand perché è veramente molto bello cosa di particolare il Capimdoro fa questi gioielli con una fibra che si chiama Capimdurado lo leggo perché io assolutamente non me lo ricorderei ma è scritto sul loro bigliettino ed è una fibra vegetale che cresce in una regione del Brasile il suo colore è simile all'oro e non muta nel tempo è una pianta leggera e analergica che si presta per creazioni artigianali in un affascinante stile eco-chic allora praticamente queste sono delle fibre soltanto intrecciate e lavorate e poi appunto come se fosse un filo di fibra vengono poi arricciati, vengono abbelliti con delle berline eccetera ed eccoli qui sono molto leggeri, veramente leggerissimi sembra quasi di non averli e si prestano a fare non solo gioielli ma anche altre cose molto interessanti perché come un filato può essere usato per fare delle borse infatti in esposizione avevano anche delle borse intrecciate bellissime e devo dire che mi piace tantissimo e vedrete presto delle foto anche di questa piccola parour che a me è piaciuta tantissimo eccoli qua ok questo è tutto io spero di essere stata abbastanza breve di avervi fatto vedere tutto vi ho messo anche degli spezzoni o delle foto di qualcosa di ravvicinato che così potete farvi un'idea chiaramente di tutto quello che avete visto vi racconterò pian pianino sui social, sul blog eccetera perché farò delle recensioni ringrazio tutti quelli che sono stati al sana che hanno partecipato al sana perché comunque ci è voluto coraggio anche in un certo senso ringrazio voi che siete stati ad ascoltarmi a vedermi fino ad ora e niente alla prossima e un bacio ciao ciao ciao